Tommaso Marmorini Carriera dritta lineare Si allarga un po' il cavallo però, si allarga un po' Infatti no, quattro Quattro, quindi spagheggio con Porta Crucite Si è allargato molto, molto davanti al buratto Non so perché il motivo ma è un quattro verticale Colpo di scena in casa Porta Sant'Andrea per il nome del successore di Stefano Chierici per le giostre del Saracino 2018 In lizza con i titolari viene infatti promosso Tommaso Marmorini, detto il benzina Questa è la scelta del quartiere All'esito della riunione del 23 maggio recita una nota bianco-verde il consiglio direttivo del quartiere di Porta Sant'Andrea ha scelto la coppia di giostratori che affronterà il buratto nelle edizioni della giostra del 23 giugno e del 2 settembre conferma scontata per il veterano della piazza Enrico Vedovini classe 1976, 35 giostre corse e 11 lance d'oro conquistate A far coppia con il primo è stato scelto l'esordiente Tommaso Marmorini classe 1992 che ha disputato quattro edizioni della prova generale E proprio durante le prove generali Marmorini aveva spesso strappato consensi ed applausi Cresciuto nella cantera di Sant'Andrea ora la grande occasione per continuare la striscia positiva dopo il successo indimenticabile del quartiere nell'ultima giostra dello scorso settembre I tifosi bianco-verdi sperano possa finire proprio così Una giostra dunque sempre più giovane con l'età media dei giostratori che si abbassa ancora di più Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!